Vedete, chi semina odio, ho sempre detto che avrà odio. Io non sono né Gesù, prima di tutto, e non sono uno di quelli che dice devo essere superiore, no, perché se uno mi tira un pugno, io gli tiro due pugni, ok? È così che funziona ed è così che ho sempre fatto. Quindi se uno insulta, se uno aizza odio, avrà sempre odio, ok? In cambio, quindi ad esempio Mastro Lindo, no, non gli interessa un cazzo di buffone del ritiro, però hai fatto due video, due fottuti video di merda, va bene? Nei quali attaccavi, insultavi, denigravi, infamavi buffone. E lì lo fai semplicemente perché a te piace creare e dai sale tifoserie. Però dalle mie parti si dice, prima o poi ti troverà quello del formaio. Prima o poi troverai quello del formaggio, va bene? Perché purtroppo, per te, stai scherzando un po' troppo con il fuoco, secondo me. Detto questo, chiusa parentesi, perché ripeto, questo significa buttare benzina sul fuoco. Ok, bene. Chiusa parentesi di questo oggetto vergognoso, ridicolo, che non dovrebbe nemmeno uscire di casa, figurarsi, fare video su YouTube, perché allora è un conto. Io posso anche accettare l'insulto sportivo, anche se poi replico con la stessa moneta, come ho sempre detto, vabbè, ma lì significa veramente punzecchiare i nervi dei tifosi, perché significa veramente voler la guerra tra tifoserie. E ripeto, questo nel piccolo, nel nostro piccolo, è un po' anche molte volte responsabilità nostra, delle tv, dei giornali, se poi fuori lo stadio succede qualcosa, perché si incrementa, sempre odio, no? Però poi, guai, se i tifosi, se i giocatori, i tifosi della Juventus, dopo un anno di infamia, arriviamo al secondo punto, tweet vergognoso e squalido del Napoli, va bene? Si indignano per il video fatto da Douglas Costa, Benatia e qualcun altro, nel quale si inquadravano le tre bare, due di Insigne Merten, se non sbaglio, il discorso delle bare. Io, allora, quello è sempre riferito, tra virgolette, a una morte calcistica. C'è sempre stato, ok? Anche Italia-Germania dell'82, io non c'ero, ovviamente, però mi hanno raccontato che in giro per l'Italia c'erano bare tedesche, ok? Sempre, ovunque, in tutte le strade italiane. E i cruchi non è che hanno fatto sta guerra, no? Invece, purtroppo, la tifoseria napoletana è così, è così, possono insultare, diffamare, augurare la morte, sfottere, tutto e tutti, però guai se vengono toccati. Invece di partorire un tweet del genere, vergognoso e squallido, quando i vostri tifosi hanno fatto sempre peggio, e voi come società, Sarri fa il dito medio, Insigne parla di finali perse e non sai neanche che cazzo sia un quarto di finale. Voi fate la morale a noi, voi fate la morale a noi. Questa è veramente una cosa... Invece di fare un tweet squallido del genere, ok? Non ho letto complimenti alla Juventus per il suo settimo squallido di fila o onore rispetto a Buffon per l'ultima partita alla Juventus. No, voi non l'avete fatto un tweet del genere. E quindi, io ripeto, quella società, quella squadra e quella tifoseria è d'obbligo non rispettarla. È d'obbligo non rispettarla. Perché non meritate rispetto. Ok? Detto questo, quest'anno, tutti che spingevano per il Napoli, tutti che ci denigravano, ci infamavano, ci insultavano, con tweet, titoli di giornali, televisioni come Caressa, no Sky, tutti. E allora, io, ok? Io sono contentissimo e voglio continuare a vincere anche il prossimo anno. Poi, se non dovesse accadere, faremo le nostre analisi, però voglio continuare a vincere, ok? Per questi stronzi, perché sono stronzi, effettivamente, ci hanno veramente marciato contro tutta l'annata, tutta la stagione. E ieri, tralasciando tutto che dicono a Poli di Torino e Granata, sì, erano quattro gatti, no, quelli che festeggiavano ieri la Juventus, i pagliacci. Ieri era, Torino era piena di gobbi che giustamente festeggiava. Giustamente festeggiava. E perché festeggiamo così anche dopo sette anni di fila? Perché voi ci date nuova linfa ogni anno, ogni giorno, con le vostre parole, con le vostre puttanate che continuate a fare e a dire contro di noi. Voi siete la nostra linfa. Quindi, io ripeto, l'odio vostro non lo sopporto assolutamente e risponderò sempre con altro odio. Sia chiaro, perché in questo canale non si volta l'altra guancia come ha fatto Gesù, appunto. però, poi, quando si vince contro tutte queste cattiverie, tutte queste infami, tutta questa mancanza di rispetto nei nostri confronti, è dieci volte ancora più godurioso. Ok? Quindi voi ci fate godere dieci volte di più rispetto a se dovessimo vincere normalmente. Ok? Allegri ha ragione. Questo è lo scudetto dell'orgoglio. L'orgoglio gobbo contro tutto e contro tutti quest'anno. Avete aspettato, avete insultato, ci avete infamato. E parlo anche dei tesserati del Napoli, no? Appunto con i segni dell'Aurentis, Sarri e tutti gli altri. E poi, dopo un anno di silenzio, i nostri si permettono di girare un attimo un video, di magari postare una foto con Napoli merda, perché voi non l'avete mai fatto, no? Coppa Italia del 2012. Ricordi brevi avete voi, probabilmente. Vabbè, comunque, a parte questo, dopo un anno di infamie, siamo stati zitti, abbiamo lavorato, abbiamo vinto. E nel giorno dei festeggiamenti, nel quale ci sono stati anche i fuochi d'artificio, ma nel giorno, quando alziamo le coppe, noi festeggiamo. Quando alziamo le coppe, non quando vinciamo la partita. Ok? Non parliamo, non infamiamo e non, soprattutto, punzechiamo gli altri. Anzi, noi non li avremmo nemmeno punzechiate se loro avessero fatto la stessa cosa. Ok? E invece, dopo un anno che ci avete punzechiato, va bene, ci avete sfottuto, ci avete offeso, ci avete delingrato, nel giorno dei festeggiamenti voi vi indignate per due video, per una foto, quando voi avete fatto dieci volte di peggio. Siete ipocriti! Siete ipocriti! No, io non condanno quel gesto di ieri di Costa e degli altri, perché ci sono rotti le balle anche loro, ragazzi. Ci sono rotti le balle, abbiamo visto in queste ultime due settimane. Ci sono rotti le balle tutti, perché anche loro, non è che a loro piace vedere i propri manichini come i guain impiccato a Napoli, va bene? Anche loro se le legano al dito, queste cose qua. Cosa pensate? Che loro fanno passare tutto? No. E danno ragione! Avete rotto i coglioni un anno, trasciando tutti gli altri anni, ma quest'anno ancora di più e vi indignate per queste cose legittime fatte dagli stessi interessati praticamente, dai diretti interessati. Io non ho parole, siete ipocriti, orgoglioso di essere gobbo, orgoglioso di aver vinto 7 scudetti di fila, 4 copitali di fila, 4 doppietti di fila, 30 vittori su 38 partite, di che cazzo volete parlare? Di che cazzo volete parlare? L'altro che sfotte e insulta Buffon, siete una manica di coglioni, tutti, tutti, nessuno escluso, tutti. Va bene? Indignatevi su sto cazzo, indignatevi, perché voi, ripeto, continuate ad attaccarvi a questo, all'altro, quell'altro, se non erano le bare trovavate qualche altro pretesto per attaccarci, ma ripeto, sempre e comunque voi alla fine vi attaccate al cazzo, ok? Buona domenica a tutti e fino alla fine, forza Juventus! Gligare! Marcea Juventus! No, no, non, 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 non! Grazie a tutti.